Se la taratura non è corretta vi mostro come a passare o aumentare la pressione di esercizio, allentiamo il contro dato della valvola, se la pressione di esercizio è elevata per abbassarla bisogna agire sulla valvola svitando di un giro così andiamo a ridurre la pressione di esercizio e verifichiamo. Se invece la pressione è più bassa bisogna fare l'operazione inversa, quindi serrare di un giro, trocare tutto e controllare mentre l'auto è va bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.